Sir Filippi, un annuncio sui social che ha lasciato tutti un po' così perplessi, annuncia di voler abbandonare l'agone politico, che cosa la spinge a fare questa cosa? Ieri è successo un fatto molto grave, onestamente ancora mi sono preso 48 ore di tempo per pensarci perché credo che le affermazioni che ha fatto il consigliere Nicolelli del Partito Democratico e anche alcune affermazioni del sindaco siano da condannare perché è veramente brutto che la politica si abbassi a questo livello, cioè ha quasi delle affermazioni sei malato, curati, quando di fatto le uniche cose che sono successe ieri, fino a quel momento abbastanza tranquillo il consiglio comunale, abbiamo portato degli emendamenti, delle proposte al bilancio per inserire la Fano dei Cesari quest'anno, per inserire il carnevale estivo, per dare più fondi allo sport agli asfalti, al verde pubblico, tutti bocciati, ma questa è politica, quindi ci sta il gioco delle parti e la maggioranza che boccia gli emendamenti dell'opposizione, ma da qui a finire quasi all'insulto perché sinceramente io non sono malato, l'unica malattia che ho, questa è bene dirla a tutti i fanesi è quella che da più di dieci anni mi impegno per il mio comune in modo passionale perché ieri siamo stati sette ore tutti in consiglio comunale per 30 euro l'ordi di gettone e sentirmi dire queste cose onestamente mi fa ricredere al ruolo che abbiamo perché è un ruolo molto importante, perché le decisioni vengono prese in quell'assise e purtroppo ieri abbiamo preferito non decidere, al di là delle bocciature e gli emendamenti per insultare le parti politiche, questo mi auguro, ho ricevuto le scuse del sindaco di persona non quelle del consigliere Nicolelli del PD e mi dispiace di questo, deciderò nelle prossime ore che cosa farò e sicuramente, come posso dire, mi auguro che il livello politico si rialzi in questa città Grazie